Rica Sabatini, allora oggi manifestazione in piazza, qui a Pescara, a piazza Salotto, per chiedere che cosa, ma soprattutto per invitare i cittadini a fare cosa? Sì, siamo qui con i consiglieri comunali e anche con Domenico Pettinari, il nostro consigliere alla Regione, per invitare personalmente tutti i cittadini a partecipare al Consiglio Comunale che si terrà martedì 2 settembre. Un consiglio comunale fondamentale perché si discuteranno le famose aliquote, ossia quante tasse dovremo pagare, quante tasse dovranno pagare i cittadini, i commercianti, i pensionati, gli impiegati, quindi tutte le categorie. Sarà un consiglio fondamentale perché, come è stato anche negli anni precedenti, determinerà quindi quale fondamentale costo sarà per noi, cioè un onere importante è quello delle tasse che però può diventare anche un'arma letale. Abbiamo visto soprattutto per il caso dei commercianti che è stato spesso anche una discriminante tra il tenere aperta la propria attività o dover pagare le tasse. Noi riteniamo quindi che tutti i cittadini debbano sapere quali saranno le proposte dei vari portavoce, quindi tutti gli elettori, non solo quelli del Movimento 5 Stelle. Ed è per questo che andremo personalmente, cittadino per cittadino, a porgere l'invito per martedì. Allora, è vero che c'è una situazione drammatica e che è un'eredità del centrodestra, quindi della giunta precedente, però è anche vero che il centro-sinistra ha impedito con un'opposizione forte che fosse approvato il famoso regolamento IUC delle tasse e quindi ha contribuito a questa situazione. E se oggi l'amministrazione sostiene di dover mettere le aliquote al massimo è connivente con il centrodestra. La realtà dei fatti però è diversa, nel senso che un'amministrazione in quanto tale può decidere di fare una scelta. Questa amministrazione non l'ha fatta, è un'amministrazione vittimistica che sottolinea sempre l'eredità che ha ricevuto ma non fa mai scelte. Scelte che devono essere invece basate su un principio di equità. Se noi chiediamo a un cittadino che può dare 5 euro di darcene 40, non ci darà neanche le 5 euro. E questo è molto molto rischioso perché può innescare un fenomeno di sciopero fiscale e se così avvenisse potrebbe essere altissimo il rischio di default per il Comune di Pescara.